Per lui la chitarra va bene Ok ragazzi è finito il concetto da un pezzo E adesso stiamo finendo di fare shopping Perché i negozi sono aperti fino a mezzanotte Quindi tra un po' andiamo Perché ho leggermente sonno E stiamo a comprare delle scarpe Cioè io non mi compro nulla perché sono a posto Tra l'altro durante il concerto avevo anche abbastanza freddo Quindi sono entrata dalla Benetton E ho comprato un paio di pantaloni lunghi E adesso sono con i pantaloni lunghi Troppo comodi, super felpatoni Adoro Ho trovato un euro in terra Quindi di chi è quell'euro mi dispiace tantissimo Adesso è mio E niente Noi ci si vede domani E un bacio Ciao